Drammatico incidente in campagna nel primo pomeriggio di oggi in territorio Isola Vicentina, dove un anziano del posto è deceduto praticamente sul colpo a causa dei traumi subiti in seguito alla caduta di un albero su cui erano in corso operazioni di taglio. Secondo le prime indicazioni sembra che la vittima dell'età di 79 anni sia stata travolta dal tronco o da un ramo su cui stava lavorando in un appezzamento di terreno isolato. L'allarme è scattato alle 13.10 con richiesta di intervento immediato al 118 che subito ha fatto decollare un elicottero del SUEM dall'ospedale di Patova. Purtroppo una volta supposto i sanitari in ambulanza che lo hanno preceduto non hanno potuto che constatare l'irreversibilità della morte dell'uomo. Il nome comunicato nel corso del pomeriggio dopo la triste notizia è Portolo De Franceschi. Il mezzo di pronto soccorso aereo di conseguenza è stato fatto rientrare. Troppo gravi i traumi riportati dal pensionato mentre rimane da accertare se la morte quasi istantanea sia avvenuta per schiacciamento o per un colpo alla testa. Grazie a tutti!